Il nostro coro è stato in grado di incantare anche la propria suocera, quindi... che in una notte ha amato le sette idee tutte da solo e ha preso anche un cappuccino durante. Signori, dall'Oriente, vicino Catania, il Fakiro Gaddafatù, Gaddafatù. La meraviglia vive nel carro, lo dobbiamo tenere legato perché l'essere è in grado di ammaliare qualsiasi femmina. Signori, io farei un forte applauso per il Fakiro Gaddafatù. Allora, signori, ve lo vado a rappresentare. Pensate che l'essere si è persino fidanzato. E l'unico Fakiro, signori, è ad avere l'augello che suona, guardate bene. Nelle sue reputende, l'augello tonante. Sei pronto a sentire il suono? Vai! Signori, io farei un applauso perché è unico al mondo. Allora, questa sera per voi il Fakiro Gaddafatù, mi abbassi la musica, grazie, cercherà per voi di inghiottire una spada di 40 centimetri, signori. 50? 90 euro. Ti pago io, vai! E allora, signori, se poi ci riuscirà il nostro Fakiro, gli faremo un grande applauso. Ma se non ci riuscirà, lo porterei... c'è un ospedale in zona? Sì? Perfetto. Vai! Attenzione perché il Fakiro inghiottirà questa spada fino in fondo, quasi a sfiorare la prostata. Vai! Attenzione! Puglio 2 dovrà far ruotare il bacino per far fruire meglio la spada nel proprio fisico. Vai! Attenzione perché il nostro Fakiro... Guardate come la spada sta scendendo, signori. Sembra, ma lo è. È bravissimo. Guardate, guardate, scende sempre di più. Sta già attraversando gli organi ormai corrosi dall'alcol. E il fegato è quasi incerrosi. Attenzione, signori, io gli farei un forte applauso per questo Fakiro e rischia la vita. Ed ora come la spada è scesa, più difficile sarà estrarla senza portare all'esterno alcun... Allora, avrò bisogno del vostro aiuto. Contiamo tutti fino a tre, dai! Uno... Due... E tre! La spada è uscita più forte, ha detto uno, due e tre. Dai! Uno... Due... E tre! Oh, bravi! Che è successo? Due... Oh, aspetta che è successo qualcosa. Che è successo? Dove è arrivata? Due... Signori, c'è un veterinario, un maniscalco. Si è incastrata la verga. Ci penso io. Gli darò un calcio potentissimo. Tutti assieme, urlate, così capriamo il suo dolore. Tutti assieme, dai! Due... 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 Questa è la parte che gli piace di più. Urlate più forte, più forte sarà il calcio. Un'è uscita, va! Non dire parolacce, attenzione perché ce l'ha fatta. Signori, io farei un forte... Per questo imbecillo... Eh, per questo Fachiro, forte l'applauso! Eh?